Ok, di questo si può occupare la polizia. Meglio muoversi. Devo rubare una macchina! Muoviamoci! Cosa sta rubando? Ah, diavolo! Qui in generale. Sospetto guidatore apriato. Ricciuto il tempo d'arrivo, un minuto. Avvicinarsi con cautela. It was my old place. Tutta metta lontana. Perfetto, sono gli Yardis. Perfetto, sono gli Yardis... Pag. Ehi coglione! 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 A casa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E apre parte Vengo, porto a stampo e tosse E trovare una barba Llamata urgente, centrate Sospetto armato Impressimità, mirare liberate Fai il sospetto Le auto sono in giro Fermatelo a tutti i costi Polizia, fermo Ferma la macchina Si, il furgo ne è questa Si, Mark non ho avuto fortuna Non è entrato né uscito nessuno E se Alex fosse qui avrei certo visto qualcosa Comunque adesso vado lì dentro a dare un'occhiata Non ho il più piccolo indizio, amico Se non è lì, c'è solo un altro posto dove andare a vedere Ora devo andare lì C'è una cosa che devo fare, subito Oh no, cosa ti aspetta ancora? È meglio che tu non lo sappia, amico È decisamente meglio che tu non lo sappia C'è un'occhiata che tu non lo sappia Merda è questa Fermo, mi servono i tuoi dati Allora ci sei in quel cazzo di furgone? Sì, sto andando a nord Passa però Ford Circus Il vero furgone dei telefoni è là Prelevalo prima che faccia saltare la copertura Che roba è? Walk your races Non hai più di dieci minuti Attento, pazzo coglione Ehi, dove stanno andando? Ehi, la avevo appena lavata No Pia di mezzo Ehi, questo è senso unico Ehi, questo è senso unico Veloce, muoviti Cosa sta facendo? Dove essere quello C'è un poliziotto corrotto Un certo McCormack Charlie lo vuole morto Vai nella stanza delle prove Andiamo Attento Ehi, coglioni Ehi, come somebody Ciao 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 Grazie a tutti 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 C'è un poliziotto con... Grazie a tutti Grazie a tutti Mi servono i tuoi dati Questo mi porta a cattivi ricordi Sei qui per i telefoni? E quanto ci hai messo? Mi spiace, sono stato trattenuto Ci sono dei pazzi in giro Da questa parte, vieni Da questa parte Ah, e non andare di sopra, capito? Harry ha detto che sopra c'erano dei ferri Meglio che mi dia una mossa E poi ci sono stati... E poi... E poi... E poi... Mi sape un dottore? Che cosa vuole Carter con tutta sta roba su Johnson? Chi lo sa, diamo un'occhiata e via Ecco quello che stavo cercando Aspetta, Smeter, vorrei parlarti un momento Dov'è la ragazza? È nella stanza degli interrogatori, capo McCormack, ho cinque anni rispetto a questo momento Ma che cazzo ci fai? Sfortunato, eh? Prendi questo Sfortunato, eh? Prendi questo Prendi questo Prendi questo Prendi questo Fuori o ti arresto? Senti, non ho intenzione di ripetertelo Dico sul serio Prendi questo Sfortunato, eh? Prendi questo Prendi questo Prendi questo Chiaurami Sì Sono a secco Non metterti contro di me 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 Grazie a tutti.